Notate che spesso rimarchiamo quel che ci manca, quel che non abbiamo. La lamentela, il lamento, il lamentarsi, sport nazionale, sport mondiale, lamentarsi. Ma dentro scavando da dove viene è l'insoddisfazione perché non si ha qualcosa, perché mi manca qualcosa. Ed è un atteggiamento mentale che determina un modo di vivere. Penso alle cose che mi mancano. Ma immaginate invece di cominciare a pensare a quello che ho. Provate a immaginare l'atteggiamento mentale pensando a quello che sono. Comincio a pensare che sono vivo, che parlo, che comunico con le persone. Che qualcuno mi ha voluto bene e mi vuole bene. Che so sorridere e suscitare altri sorrisi. Che aiuto delle persone e sono aiutato. Che provo delle emozioni. Belle. Gratificazioni. Soddisfazioni. Che. Che. dolce. Che. 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 Grazie a tutti.